Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 4 km di coda per incidente, adesso risolto tra Firenze Scandicci e Barberino. Per lavori fino alle 10 è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla FIPILI ralentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena è chiuso lo svincolo di Poggi Bonsi Nord in entrata. La viabilità cittadina a Firenze in Viale Guidoni per lavori alla rete del gas fino al 10 ottobre restringimento di carreggiata sul controviale tra Via delle Pandette e Via Forlanini. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!